Salve a tutti cari colleghi, benvenuti a questo nuovo video dal titolo 4 competenze indispensabili per emergere nel 2024 come agenti immobiliari. Ma prima di andare avanti vi spiego un po' chi sono, ragazzi magari c'è un po', cavolo, record ragazzi dello scorso mese, 30.000 visualizzazioni come agenti immobiliari. Non male, non male, non male, sono contento, continuate a seguirmi, fate like così io mi carico e vi faccio più video. Allora, 4 competenze, mi presento, sono Simone Rossi e ho un'azienda di formazione con più di 3.000 studenti, abbiamo fatto degli eventi, adesso sono anche abbastanza energico perché è finito un evento con più di 300 agenti immobiliari, una figata atomica, per cui veramente mi sta inorgogliosendo questa cosa qui, per cui ci metterò ancora più attenzione e lo faremo. Però diciamo che io arrivo nel mondo della formazione perché ho un team, sono stato un agente immobiliare che ha ottenuto risultati importanti, più di 113 transazioni all'anno, primo team Remax per tre anni consecutivi, 19esimo team al mondo, una serie di cose per cui qual è la garanzia? Perché c'è questa esplosione di agenti immobiliari che entrano nei miei percorsi avanzati eccetera? Semplicemente perché quello che dico l'ho fatto mille volte io prima. Io non passerò mai una informazione che prima non ho fatto io, ho visto che mi ha portato un risultato nel mercato, vero, immobiliare, quello delle persone, non quello del roleplay. Tante volte ci sono tanti formatori che dicono tu devi fare questo ma non l'hanno mai fatto e allora ho capito che questa roba vedo che agli agenti piace. Ma entriamo nel merito ragazzi. Allora quattro competenze del 2024. Allora la prima cosa ragazzi, ve lo dico subito, è ogni anno che passa vedo che questa roba più ci lavoro, più ci dedico del tempo, più veramente mi dà una mano. Che è il tema inerente al mindset, ok? Per cui con mindset non intendo ragazzi scorrere, scrollare i reel di Instagram dove senti il discorso motivazionale. Non è neanche roba leggendo i libri con tutto il bene ragazzi, io lo capisco. Però vi faccio una domanda. Sicuramente hai letto, pensi a arricchisci te stesso, altri libri e sei riuscito a raggiungere i tuoi risultati? Sì o no? Allora questo significa che i libri sono un ottimo passatempo ma non è quello che fa la differenza. Ma sono dei veri e propri programmi. Allora per quanto riguarda il livello di mindset io vedo che le aree dove gli agenti immobiliari sono più carenti sono sostanzialmente tre. La prima ragazzi, molti agenti non hanno un vero obiettivo. E quando io intendo obiettivo non intendo l'anno scorso ho fatto 100.000, quest'anno faccio 120.000. No, no, stiamo parlando di qualcosa di veramente profondo, qualcosa che mixi due cose che è il desiderio ardente. Cazzo ti sveglia la mattina e pensi a quello, cazzo vai a letto e pensi a quello. Questo è il vero desiderio ardente. E la seconda cosa è la crescita, cioè la persona che arriverà a quell'obiettivo è una persona diversa rispetto a quello che sei adesso. E quindi mi capita, sì ce l'ho l'obiettivo e magari è 200.000, l'anno scorso ho fatto 150.000. Non è un obiettivo quello ragazzi. Quello non è quel qualcosa che ti porta veramente a dare tutto te stesso utilizzando il volere, la vera motivazione interna. Per cui su questa roba io ce l'ho lavorato tanto, ho studiato dai migliori al mondo. E quando io entro nei programmi avanzati, chi si siede a me, prima cosa creiamo l'obiettivo. Per cui do della roba che va seguita, un programma di lavoro per 40 giorni, 50 giorni, poi in realtà tante cose te le porterai dietro per sempre, ma lì veramente salta fuori il vero obiettivo. La seconda cosa ragazzi, a livello di mindset, è il tema della procrastinazione. Per cui quando tu sei in una sessione formativa, stai studiando qualcosa eccetera, a un certo punto tu ti rendi conto che quella cosa non la sai, quel dettaglio non lo sai. Questo è l'effetto consapevolezza. Quindi cosa significa? Che tu ti rendi conto che non sei riuscito ad arrivare a quell'obiettivo semplicemente perché avevi sottovalutato quella roba lì che hai appena conosciuto oppure addirittura non l'avevi neanche mai preso in considerazione. E questa è la consapevolezza. Il tema è che quando tu hai una nuova idea interessante, se tu non decidi di fare un'azione per portare a terra quell'idea, ragazzi non è successo niente. È come comprare un libro e non leggerlo, ora tanto vale non comprarlo. Per cui molte gente si perdono nel fatto di hanno mille idee, ma alla fine non ne faccio neanche uno, non ne faccio meno. Per cui per me la procrastinazione va gestita, va riassunta in una situazione di questo tipo. Io penso a una cosa, io comincio questa cosa, io finisco questa cosa. Allora solo se ho fatto questa roba qui sto andando avanti e progredendo. Perché se sono solo nel penso, o sono nel penso e comincio senza finire, ragazzi è un grande problema. Anche qui su questo mi sono concentrato tanto. Per cui chi entra in formazione con me è, cavolo, su questa roba qui noi ci lavoriamo e ci monitoriamo. E ti do un programma di 50 giorni che devi seguire perché devi evitare di procrastinare. E questo è fondamentale. Terzo step, ragazzi, fondamentale, è il tema delle gestioni emozionali. E ragazzi, legato un po' al tema dell'autostima, eccetera, ho fatto questo evento dove ho chiesto, ragazzi, chi ha capito che è importante fare dei contenuti video? E cavolo, l'hanno tirato su tutti. E ho detto, ma ragazzi, allora, se l'avete capito che è importante, perché non lo state facendo? Perché c'è un sentimento dentro, legato all'aspetto delle emozioni, che dice, ma chissà cosa penseranno quello. E il solo fatto che tu lo pensi ti blocchi e ti frizzi. E anche questo va gestito, ragazzi. Per cui, prima competenza che io affronto nei miei percorsi è il mindset. Senza quello, io tanto, anche se impari una cosa nuova, non la fai. Perché? O non hai la motivazione per farlo, e quindi il primo sberlone che prendi, siccome non hai un obiettivo, è molli. Secondo, perché la cominci e non la finisci, per cui stai procrastinando. C, perché hai paura del giudizio degli altri, hai una situazione dentro che ti blocca. Per cui, primo tema, mindset. Secondo tema, ragazzi, cambio colore. Cambiamo e lo facciamo diventare verde. Yes. È un tema che c'è da sempre, che è diventare bravi ad acquisire. Ok? Per cui acquisire. Chi ha gli incarichi domina il mercato, ragazzi. Quindi, una competenza è quella di generare costantemente tanti incarichi. Per cui, come si generano tanti incarichi? Ragazzi, qua dovrei farci 50 video, diciamo che lo insegno bene, però l'input che ti voglio dare è questo, è che tu non devi vivere le montagne russe, per cui tu devi avere mediamente un certo numero di incarichi e non fare dei picchi. Ok? Questo significa che hai un sistema, hai un processo di acquisizione, ma soprattutto hai anche tante fonti di acquisizione. Io, per esempio, ne insegno 14, cioè 14 fonti dove io posso andare a pescare degli incarichi.